bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video che sono xyuder e oggi ragazzi abbiamo tantissime news per quello che riguarda il futuro di fortnite e i prossimi giorni vi ricordo sempre che questa settimana stiamo aspettando la patch 14.30 che finalmente arriverà dopo tre settimane di attesa un'attesa lunghissima ma nel video di oggi parleremo anche della nuova coppa dar devil e sì ragazzi un nuovo eroe marvel è pronto a fare il suo ingresso vi faccio vedere tutto e come ottenerlo in anteprima parleremo anche di tanti leaks e di tante news prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e non poteva che essere un riferimento ad un anno dal capitolo 2 di fortnite esattamente un anno fa veniva pubblicata sulla pagina twitter ufficiale di fortnite the end is near 24 hours quindi 24 ore alla fine del capitolo 1 con tanto di immagine che vedeva un sacco di skin salutare il battle bus e appunto portarci a quello che sarebbe stato il buco nero e il capitolo 2 quindi ragazzi già un anno è passato e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché si parla nuovamente del bundle di joker il last love che vuol dire ultima risata in italiano che verrà rilasciato il 14 novembre e che completerà il set di batman quindi abbiamo batman abbiamo crazy harley queen abbiamo gli altri stili di batman mancava ovviamente è l'arci nemico joker perché vi faccio vedere questa immagine che è veramente interessante perché se è vero che la figura principale di joker è quella pubblicata nella immagine ufficiale del bundle sappiamo che arriveranno altri due stili di questa skin e alcune voci di corridoio stanno un po sostenendo il fatto che gli stili di joker aggiuntivi saranno quelli che fanno riferimento ai film quindi l'ultimo joker vincitore tra l'altro del premio oscar come miglior attore e quello un pochettino prima entrambe sono veramente bellissime compresa quella che c'è qua in fronte ovviamente sono solamente speculazioni vi ricordo anche che nel bundle arriverà anche uno stile aggiuntivo per poison ivy quindi la ragazza che vedete qua che nel film di batman è la dottoressa che si occupa ovviamente della biologia delle piante che poi viene buttata insomma nelle piante velenose e diventa appunto poison ivy e insieme a questo bundle sarà presente anche uno stile una skin di mida tutta particolare ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché sbam guardate che meraviglia l'uomo senza paura mercoledì 14 ottobre aggiugati il costume di dar devil gareggiando nella coppa dar devil a terzetti e nella matt knock out marvel per leggere il regolamento ricevere maggiori bla 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 praticamente indossa il costume di dar devil in anticipo come ottenerlo ovviamente la super competizione knock out marvel inizia il 14 ottobre un nuovo eroe marvel sbarca su fortnite scatenando una competizione sull'isola mai vista prima metti insieme la tua squadra per affrontare la super competizione knock out marvel con quattro coppe competitive incentrate sulla modalità di gioco knock out il 21 novembre queste quattro coppe confluiranno nel torneo conclusivo della super competizione knock out marvel da un milione di dollari inoltre che parteciperà a tutte le quattro coppe chi parteciperà riceverà l'esclusivo deltaplano guerra per il nexus quindi ragazzi tanta roba due premi uno lo riceviamo tutti il deltaplano dar devil i migliori la prima coppa celebra l'uomo senza paura in persona dar devil i vincitori avranno il titolo di vanto definitivo l'accesso anticipato al costume di dar devil prima della pubblicazione sul negozio oggetti e come vedete ragazzi questo mercoledì 14 ottobre affronterete la coppa dar devil la prima della competizione per diventare il demone guardiano della matt knock out le squadre migliori di ciascuna regione otterranno il costume di dar devil in anticipo sulla pubblicazione sul negozio consulta il regolamento ufficiale le prossime tre coppe saranno programmate il prossimo mese quindi ragazzi una notizia davvero incredibile e ci ricordano ovviamente che nella modalità knock out si utilizzano solo i superpoteri veramente una figata incredibile un milione di dollari di monte premi per poi tutte le squadre che andranno ad affrontare la competizione finale e soprattutto i migliori riceveranno lo stile di dare della skin di dar devil e tutti quelli che parteciperanno alle quattro coppe il nuovo deltaplano questa ragazzi come state vedendo è la skin di dar devil in anteprima in game sono davvero molto molto eccitato perché non vedo l'ora di vederla assolutamente ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché vi ricordo che oltre a dar devil saranno altri gli eroi marvel che arriveranno nel nostro battle royale ce lo annuncia di già un'immagine che avevo fatto vedere qualche settimana fa pubblicata direttamente sulla copertina di un fumetto di marvel ovviamente e come vedete ci sono un sacco di skin di fortnite ma anche un sacco di eroi che sicuramente conoscerete venom e lo stiamo aspettando tutti come si chiama quello con la testa di fuoco night rider ma non è lui nel senso comunque avete capito quello lì sotto e sappiamo anche che sta per arrivare la ragazza oh porca miseria capitan marvel a capitan marvel mi sembra un nome da uomo easy rider no non è easy rider quella è un'altra cosa non mi ricordo il nome di quello con la testa di fuoco per favore scrivetemelo qua perché mi sfugge momentaneamente quindi tre i nuovi eroi che stiamo aspettando insieme al quarto è dar devil ma sappiamo che dar devil porterà con sé un nuovo potere ovvero sia la fireball ne avevamo già parlato un mesetto fa ma adesso sappiamo anche il logo come vedete proprio una sfera di fuoco una fireball che andiamo a rivedere in un'immagine molto più definita e che sappiamo avrà anche un tempo di ricarica quindi non sarà come i guanti del dottor doom che potremmo sparare fireball peggio di non lo so che cosa cavolo sia sappiamo però che sta per arrivare e molto probabilmente arriverà questa settimana mercoledì con la coppa dar devil insomma ragazzi le notizie sono davvero tantissime io vi ringrazio per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate alle 8 in live su twitch ciao